Un'esplosione violentissima. Il boato nella notte ha svegliato l'intero isolato intorno alla chiesa di San Marco alle Paludi, a Fermo. Un barattolo pieno di polvere pirica, un ordigno rudimentale, dicono gli inquirenti, ma molto potente, tanto da intaccare le pareti a fianco del portone della chiesa. Il parroco è Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco e direttore della Caritas Diocesana di Fermo. Da sempre impegnato nell'accoglienza dei poveri, degli svantaggiati e adesso anche degli immigrati, e questa cosa forse a qualcuno non piace. L'idea che mi son fatto è che siamo dei preti che si occupano di Caritas in territori difficili e quindi l'ho interpretato come un avvertimento, quasi che qualcuno volesse dirci calmatevi, ritiratevi, una cosa di questo genere. E questo non è nemmeno il primo episodio contro strutture religiose della cittadina marchigiana. Nel febbraio scorso un ordigno era stato innescato davanti alla canonica del Duomo e stessa sorte aveva avuto anche il portone d'ingresso della casa del parroco del quartiere di Lido San Tommaso. Quelle due bombe, secondo gli inquirenti, erano state fabbricate artigianalmente dalla stessa mano. Adesso si cerca di capire se anche l'ultima, quella esplosa ieri appena fuori la chiesa di San Marco alle Paludi, sia simile alle altre. Ormai però restano pochi dubbi. Le tre esplosioni, dicono gli inquirenti, con tutta probabilità sono collegate tra di loro. Stessa autore, stessi obiettivi, la chiesa e poi Don Vinicio Albanesi. Di questo ne è convinto anche lui, come ammette ai nostri microfoni. Questo mi fa capire che è gente che ci conosce, che sa quello che vuol fare, si è resa conto di questo portone resistente, quindi ha aumentato la dose, sapeva che io non abitavo qui. Quindi una serie di elementi che ci fanno capire che siamo seguiti, che siamo attenzionati, come si dice.